Salve amici appassionati di Football Manager, qui con me come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di uno su Football Manager 2018 con il nostro nominitico United on Manchester e oggi andremo a parlare di calcio mercato e poi andremo a vedere la partita di Capital One Cup contro le Leeds United Ho letto i vostri commenti, so che volete vedere tre partite d'episodio e dal prossimo video Tante ne vedremo, oggi preferisco fare un solo episodio perché voglio comunque fare un discorso conclusivo Per quanto riguarda il mercato e poi nei prossimi episodi parlare solamente del campionato e vedere solamente le partite Per andare avanti e sperare poi di arrivare in seconda categoria Sapete che preferisco parlare alla fine dell'episodio di mercato ma in questo caso lo faccio all'inizio perché già vedrete poi in partita il cambiamento che ho fatto Nello scorso episodio vi ho chiesto se mandare in prestito o comunque vendere uno fra Luca Loft e Henry White E diciamo che quasi tutti eravate concordi a mandare in prestito Luca Loft Anzi vi ringrazio infinitamente per i tanti commenti e consigli che mi avete lasciato E quindi proprio per questo come avete potuto ben capire ho mandato in prestito Luca Loft all'Alifax Che ci paga il 100% del contratto, sono 13.000€ quindi niente di eclatante però insomma schifo non ci fanno Speriamo che possa giocare, già fatto il suo esordio anche da titolare Quindi speriamo bene più per lui, più per un fatto di affetto che per altro perché ragazzi non ha un'abilità potenziale elevata Che ci possa poi permettere di metterlo che ne so in seconda categoria o in premier nel caso cresce Perché appunto diciamo che questi sono i suoi valori al massimo può crescere di pochino Però lo teniamo più per un fatto di affetto che altro Per quanto riguarda il giocatore che lo andrà a sostituire Anche in questo caso voglio ringraziarvi perché mi avete dato un sacco un sacco di consigli Però purtroppo i giocatori che mi avete consigliato sono stati appena comprati O hanno un ingaggio troppo elevato o semplicemente non vogliono unirsi all'United Quindi ho fatto di nuovo una mega ricerca negli attaccanti Sinceramente in questo caso non volevo spendere molto né per l'ingaggio né per budget trasferimenti Quindi ho cercato qualcuno semmai in prestito o comunque qualcuno a zero Il Sam Smith che avevamo visto in precedenza purtroppo già era stato dato in prestito E quindi niente, dopo tante ricerche non ho trovato nessuno che veramente mi piaceva tanto E quindi sono andato a ripescare un giocatore che già vi avevo fatto vedere E che comunque aveva ricevuto qualche voto insomma Che comunque ad alcuni di voi era piaciuto E lo paghiamo veramente pochissimo perché è un parametro zero Che ha abbassato di tantissimo le pretese dell'ingaggio Ed è Edoardo Oneto, italiano Qualcuno nello scorso video, nel video precedente un po' mi ha sfottuto Dicendo che stiamo facendo la squadra degli italiani Ed effettivamente ha ragione perché stiamo trasformando questo United In una squadra italiana Per sfottuto ragazzi ovviamente in senso positivo In senso diciamo scherzoso Ecco non altro E quindi comunque effettivamente stiamo facendo la squadra degli italiani Però lo sto facendo senza troppi problemi Perché comunque abbiamo 9 giocatori cresciuti nel vivaio nazionale Ce ne servono 7 Quindi diciamo che numericamente siamo messi più che bene E lo so che forse effettivamente non è realistico Però considerate che Mike94 il nostro alter ego è italiano Quindi ci sta che comunque porti diversi giocatori italiani nella propria squadra Vedete Conte ha preso diversi giocatori che è già allenato in Italia E che quindi lui stesso conosce Quindi ci può stare ecco E anche perché un altro allenatore non credo che avrebbe mai portato Zappacosta al Chelsea Per quanto sia comunque un buon terzino E quindi niente È un buon attaccante Sicuramente il migliore qualità prezzo che potevamo prendere Prende raga 25.000 euro di stipendio Contratto annuale Quindi pensate veramente Gli potevamo dare anche 0 che sarebbe venuto uguale Ha comunque una discreta abilità potenziale Quindi questo potrebbe anche crescere E sicuramente ragazzi sulla carta Sulla carta è decisamente molto più forte di Luca Loft e Harry White Anche se Harry White non si può dire niente ragazzi L'anno scorso ha fatto 44 gol Quindi veramente tanta tanta roba Lo teniamo Ciò non significa ragazzi che Harry White non giocherà mai più Ci sarà un po' di alternanza Io per il momento sto battendo un po' sulla squadra titolare Perché devono affiatarsi Devono imparare la tattica ragazzi Quindi le prime partite saremo un po' il starry della situazione Giocheremo con sempre i titolari Perché comunque devono affiatarsi Devono imparare lo schema eccetera Però poi insomma Anche quando inizieranno un po' a stancarsi Faremo il turnover E niente ragazzi Direi che possiamo andare a vedere la partita Il mercato è chiuso ragazzi E veramente credo che sia l'ultimo colpo di mercato neto Perché veramente poi non possiamo più prendere nessuno Abbiamo praticamente cambiato quasi tutta la rosa Di vecchi giocatori Oramai sono veramente pochissimi E sono purtroppo diciamo Tutti in panchina C'è Allison con Roy C'è Tom Walker Vabbè lui non lo puoi proprio togliere C'è Andrew che abbiamo poi comprato Harry White Quindi 5-6 giocatori Veramente pochissimi Però ragazzi Abbiamo per fortuna avuto la possibilità Di rafforzare veramente tanto la squadra Ed è stato giusto farlo ecco E come vi dicevo Giochiamo con i titolari La partita non sarà affatto facile Leeds è comunque una squadra di seconda categoria Però Già il fatto di poter affrontare questa squadra Ci fa piacere Poi diciamo che contro le Big Se così vogliamo chiamarla Abbiamo sempre giocato relativamente bene Quindi speriamo di poterlo fare anche oggi Insomma Vediamo un po' come si mette il campo Devo dire ragazzi che Vabbè per chi mi segue su Facebook Ha visto che ho incominciato Ho incominciato un parolone Perché per il momento sono ancora al primo mese Intanto attacchiamo noi C'è il gol di Weezer Tanta roba Ho incominciato una carriera con Simone Perrotta E non vi dico ancora la squadra Perché non voglio spoilerare niente Perché se la continuo e vado avanti Anche se ultimamente il mio tempo è ancora diminuito Voglio fare un video come poi ho fatto con Marek Jankolowski E lì ho provato di nuovo usare il 4-3-3 Però devo dire che non lo so Mi piace Abbiamo vinto pure la prima partita Però poi è arrivato un pareggio Insomma non abbiamo espresso un grande gioco Ho provato a riutilizzare questo 4-4-1-1 E però ho messo 4-2-3-1 Quindi ho alzato i due esterni che noi teniamo a centro campo Come laterali E devo dire la verità ragazzi Lì abbiamo battuto anche squadre ben più forti di noi E quindi sarà uno schema che spero prima o poi Di utilizzare anche con l'United Già ci ho provato ogni tanto anche in amichevole A utilizzare il 4-2-3-1 Non si trovano ancora benissimo Però spero che rafforzando ancora di più la squadra Riusciremo poi a utilizzare anche quello schema Perché devo dire la verità è molto valido Io l'ho sempre un po' snobbato Intanto qui bella parata di Ruffier L'ho un po' sempre snobbato Perché non riuscivo a equilibrarlo per bene Però quest'anno in questo 4-4-1-1 Abbiamo creato una discreta base Anche per quello schema E devo dire ragazzi che questa tattica Mi scoccia quasi utilizzarla sempre Però devo dire la verità Fa la sua porca figura Anche in campionati molto molto Più difficile e con squadre anche molto molto più forti Quindi insomma Fin quando funziona teniamolo insomma Vediamo un po' Dobbiamo vedere anche adesso in questa terza categoria Anche se devo dire che non stiamo Per le poche partite fatte sfigurando E quest'altra partita sarà molto molto difficile Ovviamente adesso stiamo sì vincendo 1-0 Ma l'Its United sicuramente Non vorrà fare brutte figure Quindi attaccherà come se non ci fosse un domani Noi comunque non ci possiamo lamentare Per il momento stiamo esprimendo un buon calcio Però mancano ancora No No 70 minuti 60 minuti Rigore E lo batte Rossetti Vabbè lasciamo a lui la soddisfazione di battere Il calcio di rigore E lo sbaglio Colpisce la traversa Che sfiga Sembrava quasi parata del portiere E mi sa che la prossima volta Non lo batterà lui No vabbè a parte gli scherzi Si possono sbagliare i rigori Però era un vero peccato Perché Saremmo potuti andare sul 2-0 E contro il Leeds Sarebbe stato molto molto importante Però vabbè Non fa niente Rossetti non sta facendo una buona partita Io a questo punto Incoraggio la squadra Soprattutto un incoraggiamento Versi il nostro buon Rossetti Che sicuramente Sarà leggermente deluso Da questo rigore sbagliato Tant'è che addirittura arriva a 5.9 Porca miseria A breve semmai lo cambiamo Mettiamo Facciamo fare l'esordio A Oneto Speriamo un po' che Con questo messaggio positivo Che abbiamo dato alla squadra Si diano una scossa Che stiamo giocando già benissimo Però Giustamente Rossetti non sta esprimendo Al meglio Quello che può fare Ecco Attacca ancora il Leeds Con Tono Attacca attento al destro E per fortuna Prendono anche loro La traversa Se non sbaglio E c'è adesso il calcio d'angolo Abbastanza Pericolosa come azione Dobbiamo starci attenti A questo punto No, non posso dirlo Volevo dire Concentratevi Perché non possiamo Buttare all'ortica È un primo tempo Veramente Ottimo Però Rossetti Se tu non migliori Sei veramente il peggiore In campo 5.9 È un voto veramente Pietoso Qui su Football Manager Mi costringi A mettere Oneto Mi dispiace Non mi è mai capitato Mi capita raramente Di togliere un giocatore Che sta giocando Veramente male Ma a questo punto Mi costringe Anche se Oneto non ha Una grande forma fisica Però è chiamato a fare Comunque gli ultimi minuti O meglio Gli ultimi 20 minuti Quindi potrebbe anche Riuscire a farcela Intanto c'è New Courier Dal Leeds Attaccano ancora Attaccano ancora E segnano Purtroppo Uno pari E a questo punto Domandiamo di più Se ci fossero i tempi Supplementari In questo caso Poi mi pentirei Del cambio Che ho fatto Perché Rossetti Ben o male Era ancora in condizioni Buone Ma l'ho voluto levare Perché veramente Non stava dando A quanto pare Alcun contributo Alla squadra E Leviamo Mavretich E in teoria Potremmo anche Levare Charlesley E mettere Villanueva E vediamo un po' Se riusciamo a dare Una scossa Alla partita Io non metto Ovviamente Offensiva Nel standard Anche se ragazzi Tiri eccetera Siamo messi meglio Noi E con Ate Purtroppo sbaglia Doviamo essere Leggermente più cinici Perché aveva fatto 13 tiri E solo 3 in porta Questa è una cosa Che non mi piace Di Di questa squadra Che non riusciamo Ad essere Precisi Non è che abbiamo La squadra della vita Alcuni hanno Un po' I piedi a banana Però Iniziamo anche Ad arrivare In terza categoria Il livello Sale sempre di più Quindi dovrebbero Anche i nostri giocatori Essere Sempre più forti Intanto c'è Ojo Che se non sbaglio È un ex Liverpool Scusate Sono un attimo Curioso Se me lo fa selezionare Credo di sì Vabbè Sì infatti È prestito da Liverpool Quindi Ha una bella squadretta Tempi supplementari È quasi un bel problema Perché i giocatori Stanno abbastanza morendo Ma come no Siamo stati migliori di loro Assolutamente Sì Avevo letto Sono stati migliori loro Ma perché Abbiamo fatto veramente Un'ottima partita E il problema adesso Sono le energie Che alcuni stanno veramente Morendo in campo Io Ripeto Rossetti L'ho dovuto per forza Le fare Perché Sta giocando male Anche Oneto Non è che sta facendo La partita della vita Però era giusto Per dare una scossa Alla squadra E purtroppo La scossa L'ho data lì Sa Mannaggia a me Già me l'avevate detto Che potevo fare più cambi E io mi sono Completamente dimenticato Anche questa volta Perché ora me ne sono accorto Visto che loro hanno fatto Otto cambi Eh Quattro cambi E mettiamo Calvarese Mettiamo Corroia A questo punto Ah non posso fare Ah ne posso fare solo quattro Allora Non esageriamo E Weezer Il problema è che non abbiamo Altri centrocampisti C'è anche Posocco Che sta morendo O buon aiuto Facciamo Leviamo buon aiuto va E mettiamo il nostro Bonton Walker Allora ne possiamo fare quattro Ecco Non infinite Magari Perché avrei potuto Levare anche Weezer Ma non abbiamo I cambi a sufficienza Quindi leviamo buon aiuto Mettiamo Posocco Nel suo ruolo Eh Naturale E mettiamo il nostro Bonton Walker Che potrebbe In questi ultimi 15 minuti Dare Il Uno scossone Alla squadra Anche se Lui da solo Non credo che possa fare Miracoli Però insomma Litz sta giocando meglio Raga Non c'entra niente Col discorso Walker Però era giusto per Farvelo notare Perché si è data Una bella Mossa In questi due tempi Supplementari Però vabbè Calci di rigore Un'altra volta E in questo caso Sarà un bel casino Io li Li rifaccio un attimo Ragazzi Scusate Cioè Un po' di perdita Di tempo Ma abbiate Pietà E Un'altra partita Importante L'ultimo Sarà Conate Porca miseria Stiamo messi poco male Il problema è Questi non sanno Lo battere I rigori C'è Tom Walker Che proprio E vabbè Rimaniamo così Conate È l'ultimo Certo Una bella responsabilità Irapuan Non mi piace proprio Come rigorista Vabbè Vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Anche in questo caso È AB E Forse non lo so Vabbè Intanto c'è un Edo Che segna Devo ancora capire bene Il discorso dei rigori Comunque ABB E c'è Alioschi Che segna L'uno pari Ruffie Fai di nuovo i miracoli Per favore Che Stiamo andando avanti Anche grazie a te Dai a Ruffie No Segna Giocatore abbastanza Impronunciabile Comunque vada Ragazzi Abbiamo fatto un'ottima partita Rossetti Mi ha un po' deluso Perché ha sbagliato quel rigore Ma non tanto quel rigore Che chiunque lo può sbagliare Ma per la prestazione Speriamo che possa fare meglio In campionato Oneto Vabbè Manco lui ha fatto la partita Della vita Però insomma Poteva fare anche peggio Insomma Era il suo esordio Era fuori forma Quindi Era contro l'Eats Quindi veramente Niente da dire C'è Ruffie Che è un mostro Ragazzi Porca miseria È un fenomeno Poi vabbè Quello la tira da pure centrale Parane un altro Ti prego Parane un altro E purtroppo no A quanto pari adesso Dobbiamo abbattere noi Se li segniamo entrambi Vinciamo Credo ragazzi Credo C'è Clark Clark Eh vabbè Daier Ruffie Ti prego Daier Ruffie Centrale E segna Coilet Eh Batte Cooper Quattro pari Batte Cooper Daier Ruffie Eh qua Siamo chiamati A segnarne Credo due Non sarà facile I Rapuan Anche perchè piano piano Sono sempre più scarsi Rigoristi Eh raga la vedo brutta Purtroppo I Rapuan I Rapuan Silenzio Non lo sbagliare Ti prego Grande Cinque pari Cinque pari Cinque pari Adesso c'è Ruffie Cinque pari Non sbagliare Ti prego Non sbagliare Ti prego Non sbagliare Ti prego Non lo sbaglia Mamma mia raga Qua si va Oltranza Adesso c'è Ruffie Che è chiamato A fare Almeno un miracolo Almeno un miracolo Ti prego Ruffie Io ho detto Che questi rigori Sono Mettono Troppa ansia Cioè Oggio Il giocatore Che già prima Avevo visto In prestito Da Liverpool Dai Ruffie Parla Un ex Un giocatore Liverpool Paralo E segna Segna Adesso c'è Tono Ti prego Ruffie Paralo Ti prego Ruffie Paralo Ti prego Ruffie Paralo Grande Adesso Sta a noi Credo Non lo so Non ci so Capendo niente Ragazzi Adesso dobbiamo Segnarne Almeno uno Credo O forse Tutte e due Vediamo Non so Adesso Quanto andremo avanti Tipo Batteremo 86 Rigori C'è Villanueva Villanueva Ti prego Villanueva Non sbagliare Ti prego Villanueva Grandissimo E siamo passati Siamo passati Contro l'Its Che fortuna Ragazzi Migliori In campo Sandro Wiser Grandissimi Così Sono veramente Euforico No Sono veramente Molto Molto contento Grandi così Ragazzi Passiamo Diciamo la verità Per tutta la partita Ce lo siamo meritato Ai tempi supplementari Abbiamo giocato male Ma anche perché Stavamo morendo Poi io mi dipendico Sempre che c'è il quarto cambio Però insomma Tanta tanta roba Io vi ho saltato la partita Col Barton Ma l'abbiamo vinta 1 a 0 E vabbè Nei prossimi episodi Sicuramente andremo a vedere Più partite Del Pulse Multibolt Insomma Ci sono squadre Molto molto interessanti Da affrontare Poi ci sarà la partita Con il terzo turno Della Capital One Cup E sono molto molto curioso Di vedere contro chi Capitiamo E' molto divertente Questa cosa Perché abbiamo pareggiato Entrambe 1 a 1 E entrambe abbiamo Inter Rigori Ma Ruffier ragazzi E' veramente Un mostro Detto ciò Io vi ringrazio sempre Per tutto quello che fate Vi invito a mettere Vi piace Commentare Condividere Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Mettere vi piace Alla pagina Facebook E come sempre Di nuovo grazie mille per tutto E un saluto A Mech94 Ovviamente anche da Football Manager D'Italia Ciao ragazzi